Qual è il segreto per essere felici? Non lo so. Quello che so è che la Generalità risiede nelle cose semplici. Per questo voglio raccontarvi cos'è Camombo. Immagina di fare una gita sull'Everest. O un DJ set sulla Luna. Ho una cena nella giungla, in compagnia di persone che condividono i tuoi interessi e le tue passioni. Abbiamo costruito una piattaforma digitale che permette di incontrare persone nuove con cui creare relazioni autentiche nella vita reale, partecipando e organizzando qualsiasi tipo di evento nella tua città. Il nostro business model è semplice. Da un lato tratteniamo una commissione sui pagamenti per partecipare agli eventi. Dall'altro diamo la possibilità ai brand di posizionare i loro prodotti e amplificare la loro comunicazione. Siamo partiti dal salotto di casa nostra e oggi la nostra community conta più di 400.000 persone iscritte e oltre 5 milioni di euro transati tramite la nostra piattaforma. Questo semestre il numero degli eventi organizzati in Camombo è cresciuto del 725% rispetto allo stesso periodo pre-pandemia. Vogliamo portare Camombo alla conquista del mondo intero, consolidando la nostra presenza in Italia e Spagna e raggiungendo Londra e New York nei prossimi tre anni. anni. Diventa social la nostra start-up e uniscite la nostra social revolution. Allora, vi start! Allora! Grazie a tutti.